Ciao, io sono Stefano, siamo qui con Solarnet e abbiamo deciso di fare questa mostra sul Lungolago per far vedere quello che è il settore del fotovoltaico e quello che sta dietro alla produzione dell'energia. Ci sono dei pannelli infatti che mostrano delle fotografie fatte da Luca Girardini e mostrano l'iter di produzione, di installazione e le situazioni più convenienti su cui installare un impianto fotovoltaico. La cosa si è sviluppata diciamo nel tempo perché abbiamo iniziato con il fotografare cantieri tutti di nostra realizzazione e immagini di produzione, di stoccaggio di pannelli da produttori locali di Brescia, nostri partner in diverse situazioni. L'intento è stato proprio di far conoscere tutta la filiera che sta dietro questo settore che in Italia è cresciuto moltissimo negli ultimi anni e oggi sta ancora dando tante opportunità nonostante ci siano delle contrazioni di incentivo che rendono meno frequenti le situazioni di installazioni su grandi superfici o queste tipologie di interventi. Crediamo che l'iniziativa sia di successo perché vediamo che interesse, le persone sono incuriosite da questa forma un po' diversa di proporre all'interno di un'esposizione il proprio lavoro. Ci auguriamo che in tanti verranno nell'arco della giornata.